La Game Soul Shop ha rilasciato il 12 gennaio 2023 le nuove FAQ per quanto riguarda il Battle of Night Hunt per Ijo Sigma Dominion. Voglio ricordare che queste sono le nuove FAQ, quindi solo quelle d'aggiornamento, quindi se siete interessati alle precedenti vi consiglio di andare a vedere in descrizione dove vedrete quelle prima, perché ho intenzione di portare appunto con questi video soltanto gli aggiornamenti o i cambiamenti che ci sono stati, in quanto da creare un focus solo sulle novità perché altrimenti se metto tutto si rischia di perdersi effettivamente su cosa è stato cambiato. Come possiamo vedere alla fin fine in tutto il documento è stata aggiunta una sola FAQ che è molto importante perché abbiamo che se un Dreadbred Arrows è il generale della propria armata, quindi è importante questo dettaglio, e lancia un comando, ecco che può utilizzare l'abilità Curse of Reality per lanciare lo stesso comando di nuovo a una differente unità. Questo vuol dire che si rompono gli schemi che appunto si hanno grazie a Curse of Reality in modo che sia che il generale, quindi lo stesso modello può costare un altro comando e soprattutto può costare lo stesso comando. è molto importante perché appunto spezza quelle che sono le limitazioni, vuol dire lanciare magari o l'auto attack o l'auto defense senza problemi a due unità differenti, diventa molto intrigante come cosa perché permette di variare molto il gioco, quindi credo che grazie a questa FAQ permetteremo di avere molti più Dreadbred Arrows come generale nell'armata in età, perché ci sarà un tentativo di sfruttarlo ancora di più, per poterlo valorizzare ancora di più, quindi secondo me è molto interessante. Ad ogni modo! Da Dynamode per questo video è tutto, vi invito a mettere mi piace, a iscrivervi al canale, a suonare la campanella e a lasciare un commento se siete interessati ad avere specifiche e ulteriori video riguardo a questo tipo di video, oppure se siete interessati a semplicemente assinarmi qualche domanda o qualche video a cui potete essere interessati. Da Dynamode è tutto, alla prossima!